Qui, Washington, vi parla Webster Tarpley. Fra pochi giorni, nello stato dell'Iowa, stato agricolo del centro-ovest degli Stati Uniti, comincerà la stagione delle famose e famigerate primarie. Sarebbe il processo attraverso il quale gli elettori degli Stati Uniti, dei due partiti principali del capitale finanziario, repubblicani e democratici, scelgano i loro rispettivi candidati. Su questo intero processo incombe adesso il senso di profondissima delusione con la presidenza di Obama. Lui, come si sa, arrivò con lo slogan di Hope and Change, speranza e cambiamento. E naturalmente di tutto questo rimane ben poco. Quella grande prospettiva di rinnovamento democratico di cui lui parla non si è verificata. Invece era tutto un inganno, magari dei banchieri di Wall Street che hanno avuto l'influsso decisivo sulla sua presidenza. Adesso abbiamo una situazione ben peggiore. Guardiamo prima di tutto il partito repubblicano. Normalmente è un partito reazionario, ma questa volta spaccato in due frazioni. I reazionari, sicuramente, e i fascisti o neofascisti, come si può definirli. Prima di tutto, lo speculatore edile e alberghiere Donald Trump, bombastico, rozzo, arrogante, uomo di estrema destra della città di New York. Parliamo qui di fascismo. In che senso? Trump vuole cacciare, deportare, 12 milioni di latinos, principalmente messicani, ma anche quelli dell'America centrale e dei Caraibi, che sono arrivati qui a fare i lavoratori senza documenti. Lui li vuole cacciare. Questo già di per sé garantisce uno stato di polizia dei più feroci della storia recente, ma lui non finisce qui. Dice, niente ingresso dei musulmani, cioè bloccarli alla frontiera, agli aeroporti e così via dicendo. Nessun musulmano può entrare negli Stati Uniti. Ma che vuol dire? Come si può verificare chi è il musulmano e chi non lo è? Per i musulmani già negli Stati Uniti, arabi, altri, pakistani, lui vuole un registro. E poi qui, tremendo pensiero, dobbiamo pensare ai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, si cominciò con un registro e fra poco erano tutti nei campi di concentramento. Quindi, Trump agisce nell'ambito della classica filosofia fascista. Lui anche distrugge le ideologie. Lui vuole tutti insieme proseguire il suo progetto. Lui, l'uomo della provvidenza. Lui che celebra il proprio trionfo della volontà, nello stile famigerato della Germania degli anni Trenta. Poi, lui dà la colpa per la crisi al Messico, alla Cina, al Giappone. Non parla mai dei banchieri di Wall Street, del capitale finanziario di cui lui è la creatura. Nei suoi comizi agiscono i picchiatori. Chi vuole andare nei comizi di Donald Trump per protestare viene preso di mira da queste squadracce, stormabteilungen, picchiatori, e vengono percossi e cacciati fuori. È uno spettacolo di violenza anche qui, molto raro. Sostenitori di Trump. Tra questi, gli americani con 3K. Sì, i razzisti, quelli della supremazia bianca, che stanno facendo telefonate a favore di lui nell'Aewa. Però c'è un altro fascista, rivale. Si tratta del senatore texano Ted Cruz. Detto Ted Cruz, suo vero nome, Raffaello Edoardo Cruz. Qui abbiamo a che fare con un tipo diverso di fascismo. Si può dire il fascismo clericale, quello più stile Francesco Franco, il maresciallo Pétain, o altri di questo risma, la scuola austriaca di fascismo. Fascismo clericale è il candidato, è la faccia classica dell'ipocrisia. Lui propugna la distruzione totale dello Stato sociale e ha nel suo apparato elettorale persone che incitano all'omicidio nei confronti di medici che forniscono aborti alle donne povere attraverso l'organizzazione Planned Parenthood. Quindi c'è già questa guerra fra le due bande, fra le due squadracce, si può dire. Ma c'è anche un'altra guerra che sta dilagnando il Partito Democratico, il Repubblicano, e la lotta fra i grandi finanziatori del partito, i fratelli Kach, scritto delle volte Koch, Sheldon Adelson, grande amico di Israele, e anche la famiglia Mercer. Sono i Mercer soprattutto che stanno dando centinaia di milioni di dollari, magari miliardi di dollari, alla candidatura di una persona come Cruz. Generalmente Trump conduce in avanti, però nello Stato dell'Iowa, data la grande presenza di fanatici protestanti o transisti antiaborto, Cruz ha una buona possibilità di dare una battosta a Trump in questa prima elezione. Quindi, sull'ordine del giorno c'è l'ascissione del Partito Repubblicano in più parocchie, quelli di Trump, quelli di Cruz, e gli altri, i reazionari. Questi sono i perdenti in questo momento. Qui c'è la dinastia di Bush, che vuol dire una frazione della CIA leale alla famiglia di George Bush, George Bush, giovane, e adesso Jeb Bush. Abbiamo la candidatura del senatore Rubio, lui rappresenta i gussanos di Miami, praticamente i cubani che ruotano intorno al progetto di rovesciare il governo di Castro. Ce l'hanno a morte con Obama. Abbiamo anche il governatore dello Stato più mafioso, cioè il New Jersey, Chris Christie, che sembra il Reichsmaresciallo Hermann Göring. Lo slogan della sua campagna «Stai zitto e siediti!» Questo è come lui reagisce alle domande meno gradite. Lui vuole essere il capo crumiro alla TV nei confronti di un'andata di scioperi. Il governatore dell'Ohio, Kasich, sarebbe un capo crumiro, però di tipo più soffice. Poi nel Partito Democratico abbiamo Bernie Sanders, che parla molto bene su una serie di questioni, però invece di analizzare i suoi issues, gli elementi della sua piattaforma o programma elettorale, su Bernie c'è questo interrogativo. Ma lui è candidato serio o no? Lui corre, si presenta con l'idea di spodestare Hillary Clinton, la favorita, o no? Delle volte lui dì c'ha delle ottime possibilità di attaccare la Clinton e non lo fa. Quindi tutti hanno questo interrogativo. Hillary Clinton, naturalmente, la guerra fondaia, l'amica di Wall Street, la serva di Wall Street, ha ricevuto più di 600 mila dollari dalla Goldman Sachs per conferenze di mezz'ora in quest'ultimo periodo. Quindi lei è pagata da Wall Street. Chi ti paga? In questo caso, Wall Street paga Hillary Clinton. Bernie adesso conduce sia nell'Iowa che nel New Hampshire, le due prime primarie, nelle prossime due settimane. Quindi è da augurarsi che Bernie vinca all'idea di mantenere aperto il processo e magari ci sono anche voci di un'istruttoria nei confronti di Hillary e quindi di una possibile sua incriminazione. poi dopo questo processo del processo delle primarie va avanti per quasi sei mesi. Dopo c'è la stagione dei congressi che è praticamente il mese di luglio e poi l'elezione presidenziale nel novembre. Nel frattempo dobbiamo fare i conti con varie sorprese e di questo parleremo nelle puntate del futuro. Qui da Washington Webster Tarplay e di questo l'elezione presidenziale